Pierangelo Pettenò, Consiglio regionale ha detto sì a un referendum nazionale sulla liberalizzazione delle aperture nel commercio. Con questo voto che cosa succede? Succede che si avvia l'Itara, diciamo, affinché possibilmente altre regioni, minimo cinque regioni, che sullo stesso quesito si esprimano e la Corte poi di Cassazione approvi quel quesito, si va a un referendum nazionale. Il quesito è per togliere quella deregulamentazione che è stata fatta, che consente che tutte le domeniche si possa tenere aperto qualsiasi esercizio commerciale. Quindi noi vogliamo togliere questa norma introdotta dal governo Monti che consente di tenere aperto sempre festività, in qualsiasi festività, Natale, Primo Maggio, quindi nessuno in qualche maniera è limitato. Noi vogliamo che si ritorni alla regolamentazione delle regioni, cioè le regioni stabiliscono un numero in deroga superiore a quella che è la legge nazionale. Perché no alle aperture festive di negozi, bar e centri commerciali? No, qui parliamo di esercizi, diciamo così, delle grandi strutture commerciali, per cui è chiaro che ci sono ristoranti e altri servizi che invece possono venire aperti. Diciamo di no all'apertura delle grandi strutture commerciali, di limpi mercati, insomma di quelle strutture commerciali, perché non producono nessun risultato positivo, peggiorano la qualità della vita dei lavoratori, perché non riescono certamente a reggere quel sistema appunto di lavorare tutte le festività tutte le domeniche, dall'altra uccidono il piccolo commercio, quello che tiene invece vivo i centri storici, quindi quello è soccombe, perché non può certo tenere aperto la domenica, perché magari sono a conduzioni o familiari o con pochi dipendenti. Grazie a tutti.